A dopo. Allora, mi raccomando, guardate attentamente perché è facilissimo. Potreste anche stare lì a casa adesso con un bicchiere di qualche cosina a gustarvelo perché adesso vi dovete gustare come viene usato il levablocco. Lo voglio scandire proprio lentamente. Allora, guardate, dammi una bella zoomata. Guardate, con un ditino, un ditino, senza far fatica, la persiana si muove. Guarda, guarda te che mi stai guardando. E così si blocca, eh? Vedete? La leva che si blocca, quindi la persiana non si muove più. Opla! La piuma! Avvegi! È proprio eccezionale! Grazie Alberto! Grazie! Grazie a tutti